Musica ribelle, nemica di Stato, divieti, arresti, censure, rap o elettronica al cremino non va giù. La polizia ti trascina via, cantano gli ice peak, è successo anche a loro, scesi dal treno e finiti in manette. Testi estremisti, cattivi esempi, il concerto non sa da fare. Questo è il refrain degli agenti, su internet però nessuno li può fermare, piacciono i giovanissimi, non parlano solo di sesso e droghe come hanno riferito a Putin, ma anche di povertà, corruzione e brutalità delle forze dell'ordine, argomenti tabù in un paese che vuole difendere i valori tradizionali, ma la repressione da sola non basta e lo si è capito con Husky. Il rapper siberiano è stato arrestato per teppismo perché, esasperato da continue cancellazioni dei suoi concerti, alla fine si è esibito in strada, sopra un'automobile. Se esci dal coro, il regime ti distrugge, gli farei con l'oppositore Navalny a un concerto rap proprio per Husky, sold out in sole tre ore. Un segnale arrivato anche al Kremlino, Husky è stato scarcerato in anticipo, pare con lo zampino di Putin che ha fiutato l'aria. Vietare il rap è controproducente, dice il presidente russo, ma se è impossibile bloccarlo, cerchiamo almeno di controllarlo. In Italia